Si avvicina il weekend e con esso le prime processioni della settimana Santa Nissena, cioè quella della via Crucis, contemplando le vare e di Gesù Nazareno per la Domenica delle Palme. Si prevedono infatti delle modifiche temporanee alla circolazione dei veicoli nelle zone interessate, oltre che agli itinerari degli autobus della linea urbana. Sabato 9 aprile, dalle 12 fino al termine della manifestazione, Vigeraldi vieto di sosta con rimozione forzata in via Napoleone-Colaianni, direzione rotatoria Bloi, tratto compreso tra il civico 15 e la via Piodecimo. Via Piodecimo a Amboilati fino all'ingresso del Museo delle Vare, via Cavour in Amboilati, tratto di strada compreso tra la via Pansica e via Leconte-Testa-Secca. Dalle ore 15 e cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata a Amboilati e dunque le aree di sosta a pagamento sono sospese nelle zone interessate, in Corso Umberto, tra la Chiesa del Collegio e la via Redentore. Nel tratto antistante il monumento di Piazza Calatafimi, via Redentore, tratto di strada compreso tra il Corso Umberto e la via Maddalena-Calafato. Una parte di via Maddalena-Calafato, tra la via Redentore e la via Rosso di San Secondo, nonché nello slargo prospicente la scalinata del vicolo Riccione. Via Leconte-Testa-Secca, tratto di strada compreso tra la via Rosso di San Secondo e via 20 Settembre. Corso Vittorio Emanuele, tra Corso Umberto e la scalinata Bellini. Corso Umberto, tratto di strada compreso tra la via Camillo-Genovese e la piazza Garibaldi. E ancora, dalle ore 13 accessate esigenze, sospesa la circolazione veicolare nella stradella di accesso ai locali sottostanti la chiesa di San Pio X, mentre dalle ore 15 in piazza Garibaldi, tratto compreso tra la via Camillo-Genovese e la piazza Garibaldi. Via Redentore, tratto compreso tra la via Vespre Siciliani e la chiesa del Collegio. Compatibilmente con le esigenze del traffico, sarà consentita la sola uscita dal lato di via Vespre Siciliani ai soli residenti della zona interessata. E poi, dalle ore 18 fino a cessate esigenze, in Corso Umberto, tratto compreso tra la via Re d'Italia e la via Maddalena-Calafato. Via Maddalena-Calafato, via Le Testa Secca, Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via Le Conte-Testa Secca e la scalinata Bellini, via Pugliese e Giannone, all'occorrenza via Rosso di San Secondo, nel tratto di strada compreso tra la via Retusa e la via Salemi. Domenica 10 aprile invece viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 alle ore 22 in via Gravina, Atrio Biblioteca Scarabelli, dalle ore 15 alle ore 22 in Corso Vittorio Emanuele, tratto di strada compreso tra il Corso Umberto e la via Vincenzo Bellini, Corso Umberto, tratto di strada compreso tra la Chiesa del Collegio e la via Redentore, via Redentore, tratto di strada compreso tra il Corso Umberto e la via Maddalena-Calafato, via Maddalena-Calafato, via Le Conte-Testa Secca, Corso Vittorio Emanuele, tratto di strada compreso tra la via Cavour e la via 20 Settembre. Sospesa inoltre la circolazione veicolare, dalle ore 15 fino a cessate esigenze in via Redentore, tratto compreso tra la via Vespe Siciliani e la Chiesa del Collegio, e dalle ore 18 e comunque all'occorrenza in Corso Umberto, tratto di strada compreso tra la via Redentore, via Redentore, tratto di strada compreso tra il Corso Umberto e la via Maddalena-Calafato, via Maddalena-Calafato, via Le Conte-Testa Secca, Corso Vittorio Emanuele, tratto di strada compreso tra il via Le Conte-Testa Secca e la piazza Garibaldi.